Questo anno è centenario di Finlandia e anche Sibelius è il più importante compositore finlandese e lui ha un forte legame con Liguria e questo è un grande piacere di essere qui. La mia madre era Margherita Sibelius, la quarta figlia di Jean Sibelius, compositore, e io mi chiamo Satu Yalas. Quando ero bambina, una volta uno dei miei cugini tornava dal bosco, allora mio nonno vedeva e chiedeva sei stato nel bosco, che cosa hai visto? Il bambino ha detto ma niente di speciale, allora lui sorrise e ha detto torna indietro e guarda meglio. Allora io l'ho abbinata con Santa Margherita e ho detto siete venuti a Santa Margherita, che cosa avete visto? Al golfo di Tiguglio, che cosa avete visto? Qualcuno magari dice è bello, niente di... allora io dico tornate indietro e guardate meglio. Tutte le mattine, quando andavamo a salutare, lui chiedeva che cosa hai sognato? Allora magari una volta dico ma io non mi ricordo che cosa ha sognato. E allora diceva cosa avresti voluto sognare? Era il suo modo di conoscere bene l'anima di bambini. Ecco. E allora diceva che cosa hai visto? Grazie.